Basta questa stampa becera che tratta il digitale come se fosse un gioco. Ci sono giornalisti molto bravi che scrivono bene, scrivono bene di digitale, ma c'è qualcuno che fa danni. Allora, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra Elon Musk. Sul tavolo ci sono le seguenti questioni. Frequenze da dare a Elon Musk, copertura dell'Italia, perché sapete che ormai, io l'ho provato anche qui, va a 100-150 Mbps anche con l'antenna portatile. Io adesso me la porto dietro per quando vado in giro, magari in luoghi dove so che non prende bene. Questo non è solo in Italia, ma succede anche qua nel Regno Unito. Mi collego direttamente al satellite, è finito il problema della connettività veloce. E dall'altra parte sappiamo che sul tavolo non c'è solo quello, quindi non c'è solo la copertura delle aree italiane che magari sono economicamente non convenienti da parte dei provider. E quindi c'è qualcosa di più rispetto a semplicemente un gioco, un flirt. Adesso ci arrivo. E poi c'è anche il tema legato alle strategie geopolitiche, le strategie militari, perché connettersi là sopra significa anche che quando vogliamo lui può disconnettersi. Insomma, vantaggi e svantaggi. È una questione calda, complessa e direi ormai fondamentale se non esiziale per certe zone e per certe parti del nostro paese. Bene, sui giornali si parla di flirt da Presidente del Consiglio Elon Musk. Ma di cosa stiamo parlando? Ma facciamo degli articoli seri, parliamo di quello che succede, spieghiamo ai cittadini che cosa significa questo, cosa significa Elon Musk, proga e contro, non solo negli articoli quelli seri di chi si occupa di questo settore, ma facciamolo anche negli articoli in generale. Non è costume, è roba seria, a volte più importante di un'autostrada, se funziona o non funziona, se bisogna farla o meno. Sono cambiati i tempi, bisogna pensare a questo in modo diverso, altro che flirt, ma basta, non è roba da gossip, forza!